Musica Ciao a tutti ragazzi sono Zanzo bentornati sul mio canale Oggi siamo nel 53esimo episodio della serie principale di Minecraft E si, sto commentando un gameplay di Minecraft Questo perché? Perché ragazzi nel precedente registrazione Ne avevo settato bene OBS dopo averlo reinstallato E quindi ho perso la registrazione perché la mia traccia audio del microfono non c'era E quindi ho failato di brutto Quindi siccome in questo episodio come avrete letto dal titolo Sono andato a costruire la farm di angurie e di zucche Non potevo distruggere tutto e ricostruirla Ci ho messo tipo un'ora quindi ho editato il video e adesso lo sto commentando Allora ragazzi, tanto per iniziare La farm di zucche e di angurie deve essere Larga 7 blocchi, lunga 35 e profonda 3 In questo preciso istante io stavo cercando il centro perfetto Quindi il centro effettivo della farm Per andarlo appunto a identificare Perché ci servirà poi più avanti come punto di partenza Per costruire determinate cose Cercherò di non fare tagli all'incirca Allora, dal punto centrale dobbiamo scavare lateralmente Due stanzine 3x3 come potete vedere lo sto facendo in questo momento Mi sono craftato anche una pala di diamante nel mentre Perché non avevo più pale Come potete vedere appunto adesso la visuale dall'alto È una stanzina 3x3 tenendo come punto di riferimento appunto il centro Se guardo qua ragazzi perché sto guardando lo schermo Per vedere quello che stavo facendo Naturalmente bisogna replicare la stessa cosa anche dall'altra parte E queste due stanzine verranno utilizzate come zona All'interno della quale costruire il meccanismo Che va a immagazzinare le fette di anguria e le zucche Che verranno distrutte appunto dal marchigegno E le andranno a depositare all'interno della chest Per far questo ci servono 4 dropper Come potete vedere ragazzi li stavo craftando Bravissimo senza guardare sulla wiki Quindi ragazzi sto migliorando anche un botto Grazie ai vostri commenti E stavo andando appunto a posizionarli all'interno della farm Stavo facendo qua spazio nell'inventario Ragazzi mi raccomando non dimentichiamoci Di sostenere questo video e la serie Con un bel commento e un bel like Ragazzi raggiungiamo 3000 like E domani avrete un doppio video O forse no non lo so devo vedere Piazziamo in questa esatta posizione I 4 dropper E andiamo a recuperare dei comparator Ragazzi per questo meccanismo servono un po' di materiali Quindi dei comparatori E in questo momento mi ero accorto di non avere dei repeater E sono andato a craftarmeli Semplicemente utilizzando della stone Delle torce di redstone E un pezzettino di redstone Molto semplicemente Qua ero indeciso se farmene uno o due Se non ricordo male vediamo Sì effettivamente vedete Poi ci ho ripensato che me ne servivano due E sono andato a craftarmi appunto i due Repeater Il comparator deve essere piazzato Ai piedi dei due dropper In questa posizione Poi devono essere piazzati tre blocchi Qualsiasi negli angoli della stanzina Diciamo Poi devono essere messi Un pezzo di redstone qua Un altro pezzo di redstone qua Poi come ero accorto che il pavimento C'era del carbone e mi dava fastidio Quindi sono andato a recuperarlo E successivamente Ragazzi Bisognerà Andare a completare appunto Il circuito sopra Andando a piazzare anche L'ultimo Repeater Cioè non l'ultimo L'unico repeater Che fa parte di questo Di questo mini meccanismo Che attiverà i dropper Quindi ben detto Due pezzi di redstone E lì Il Repeater Bisogna naturalmente Puoi replicare sempre il tutto Anche nell'altra stanza Quindi comparator rivolto Verso il muro 3 blocchi agli angoli Pezzettini di redstone qua Centralmente E un repeater Rivolto verso La farm Successivamente Dobbiamo Metterci Nella zona in cui C'è un blocco laterale Dal lato dei comparatori Scavare 3 blocchi sotto Piazzare in questo modo Una torcia redstone Coprirla con un blocco Piazzare un'altra torcia redstone E sopra la torcia redstone Sarà necessario andare a piazzare Una redstone lamp In modo da Illuminarla Attivarla Nel momento in cui Il meccanismo appunto Si attiva Quindi nel momento in cui Le angurie o le zucche Finiranno all'interno della cesta Naturalmente bisogna Riprodurre la stessa cosa Anche dall'altro lato Quindi mettiamoci sempre Dal lato in cui Abbiamo piazzato I due Dropper E mettiamo Torcia di redstone La copriamo con un blocco Qualsiasi Utilizzato la terra ragazzi Ma indifferente Altra torcia redstone E sopra la torcia redstone La redstone lamp Mamma mia ragazzi Ci metto un filo Stavendo il fiatone Poi sopra Ai dropper Dobbiamo piazzare Due chest Così lateralmente E a questo punto Ci serviranno Ben 16 Hopper Se non ricordo male Dovrebbero essere 16 No 14 C'è anche scritto in basso Dobbiamo piazzare un hopper Rivolto verso Il dropper più basso E poi Tre Hopper Da ciascun lato Che convergano Praticamente Verso l'hopper centrale In questo modo Come potete vedere Ho piazzato tre hopper Da questo lato Tre hopper Naturalmente Anche sull'altro lato Della farm E praticamente Avremo un totale Di sette hopper Da una parte Sette hopper Dall'altra Dove i tre Ai lati Convergono Al centro Poi dobbiamo Riempire Tutto Il bordo Laterale Della farm Quindi il lato lungo Con una fila Di blocchi Da costruzione Qualsiasi Fino ad arrivare Praticamente Agli hopper Per poi Ricontinuare Dalla fine Agli hopper Fino in fondo Naturalmente Sta cosa Bisogna farla Su entrambi i lati Se non spacco Il microfono È meglio E poi bisogna Togliere L'ultimo blocco Di ciascuna Delle due file Per piazzarci Sotto Una leva Attivarla E sopra i blocchi Da costruzione E naturalmente Anche sopra Agli hopper Dovremmo Piazzare Delle Powered Rail Naturalmente Come potrete vedere Anche in questo momento Non tutte le Powered Rail Sono attive Quindi nel momento In cui La Powered Rail È disattivata Piazziamo Un ulteriore leva L'attiviamo In modo da avere Tutto Il circuito Di rotaie Attivo Naturalmente Ogni operazione Dovete farla Sia da un lato Che dall'altro Naturalmente Poi partendo Da un blocco Dopo la fine Della farm Dobbiamo tracciare Questa linea centrale Fino ad arrivare Esattamente A un blocco Precedente Al centro Quindi non sopra Al centro Ma un blocco Precedente Mi sono andato A craftare Poi due Minecart In modo da Posizionarli Direttamente Sopra Alle rotaie Potenziate E come potete vedere Il meccanismo Fa in modo Che i due Minecart Vadano avanti e indietro All'infinito Che non si fermano mai Non si fermino mai Ecco forse meglio A sto punto arriva Il lavoro Quello un po' più Sbatti Tra virgolette Dobbiamo fare Quello che sarà Effettivamente Il circuito Che darà vita A questa farm Quindi piazziamo Un blocco Di materiale da costruzione Con sopra Un blocco Di redstone E piazziamo Un hopper In questa posizione In modo da avere Il buchettino Quello triangolare Rivolto verso di noi A sto punto Ci serviranno Un po' Di altri materiali Non dimenticatevi Mi raccomando ragazzi Io qua Mi sono dimenticato Di farlo Di farvelo vedere Di mettere all'interno Del dropper Un blocco Di qualsiasi materiale Io in questo caso Ho piazzato Un blocco di dirt Come state vedendo Adesso Ho costruito Diciamo Il circuito Quindi Dal dropper C'è un hopper Che gli si finisce dentro Blocco Qualsiasi da costruzione Comperator Blocco la costruzione Repeater Blocco la costruzione Pezzettino di rest Un blocco la costruzione Un altro repeater E poi costruite Questa zona Antro Diciamo Come potete vedere Che è un 2x3 Dovete piazzare Un comparator In questa direzione Un comparator In un'altra direzione Mettere un blocco Qua sopra Spaccare L'ultimo blocco Rimasto fuori E quello sotto L'unico che abbiamo Piazzato in alto E andare a Chiudere Diciamo poi Con della redstone Il circuito Bisogna piazzare Poi naturalmente Lì una torcia Per far In modo che Il circuito Una volta arrivato In fondo Si disattivi E ritorni indietro E bisogna piazzare Sopra la torcia redstone Una torcia Scusate Sopra la torcia redstone Un blocco Un'altra torcia di redstone E sopra Con la ultima torcia di redstone Un altro blocco Poi è possibile Poi è possibile Volendo per rendere Più carino La cosa Togliere i blocchi Inutili Che sono i primi Quattro E poi tutti quelli Sotto Ai blocchi in alto Cioè non spaccate Quelli dove ci sono I comparator Così perché se non Salta via i comparator Il circuito Non funziona più Una volta che abbiamo Terminato di fare Tutto ciò Dobbiamo Costruire Un daylight Come si chiama Quello che è Il daylight sensor Non mi veniva il nome Che è praticamente Il fulcro Della farm Perché di notte Nel momento in cui Si va a spegnere Attiva i pistoni E ogni notte Praticamente la farm Parti in automatico Come potete vedere Qua il circuito Vedete che arriva Fino in fondo E poi si spengono tutti In modo che torni indietro E faccia rifunzionare Tutto praticamente Ogni volta Poi Sull'ultimo blocco Che abbiamo piazzato In precedenza Piazziamo un blocco Di redstone E poi tracciamo Una riga lunga 14 Sempre in materiale Da costruzione Sia da una parte Che dall'altra Come potete vedere Questa è una cosa lunga 28-29 Dovrebbe essere E su tutta La superficie Di questa riga Mostruosa Che abbiamo costruito In cobblestones Piazziamo Della redstone Molto semplicemente Poi ci serviranno Veramente ragazzi Tantissimi pistoni Adesso non mi ricordo Di precisione Con precisione Se sono 60 O 62 Pistoni Io ne avevo Fatti 62 Ma mi sa Che me ne sono avanzati Anche perché Quest'ultimo blocco Che è il primo Dove avete visto Che ho piazzato I pistoni Poi verrà rimosso Una volta Che abbiamo piazzato Quindi tutti I pistoni Questo è il funzionamento Del circuito Ve lo faccio vedere Ho ripiazzato Ho ripiazzato Del light sensor Lì sopra Come potete vedere Anche voi Partono tutti i pistoni Tranne i primi due Infatti li ho eliminati Dopo Questo è il meccanismo Che dà Forza Diciamo A questa A questa farm È completamente Automatica Non dobbiamo far niente Se non venire lì Ogni volta Che avremo bisogno Di cibo A recuperare Le fette Di anguria Qua ho velocizzato Per farvi vedere Che è necessario Chiudere Tutta la superficie In modo da Renderla Compatta In questo momento Non è Diciamo Molto Compatta Come struttura Però una volta Che abbiamo chiuso Il pavimento Come potete vedere Si vedono solo I pistoni Che poi Dopo andremo a coprire Vi farò vedere In che modo Qua Sì Bisogna zappare Praticamente tutta la terra Come faceva Quello zappavigna Piazziamo Lì A discrezione Io ho piazzato Da questo lato Tutte le angurie Dall'altro lato Tutte le zucche E questa è la costruzione Terminata Qua ho fatto il taglio Perché se no Non avrei saputo Cosa dirvi E quindi È già tanto Che sono riuscito A parlare così tanto Questa è la farm completa Fatemi sapere nei commenti Se vi piace il design O se devo cambiarlo E poi sono andato A metterne La casa degli iscritti Luca di Amici Che è il ragazzo Che sulla pagina facebook Mi ha consigliato Questa farm Linkandomi il tutorial Mi è piaciuta L'ho riprodotta Diciamo nel mio mondo E l'ho ringraziato Inserendolo Finalmente Nell'albergo degli iscritti Scusate Non è la casa degli iscritti È l'albergo degli iscritti La mia Noi pensiamo Sempre più in grande Quindi ragazzi Io vi ringrazio Per aver visto Questo episodio Un po' particolare Della serie principale Di minecraft Perché effettivamente È un video Un po' strano Diverso dal solito Visto che Ho ridoppiato Un qualcosa Che avevo già fatto E spero che Vi possa andar bene Ma Purtroppo non potevo Riregistrare il video Ricreando da zero Una farm Anche perché avrei dovuto Distruggere tutto E ricostruirlo da zero Ho preferito Tenere il video E Come si dice Commentarlo Provare a commentarlo Quindi ragazzi La sfida Che avevo lanciato Inizio video Se raggiungiamo 3000 like Entro stasera Mezzanotte Proverò domani A portarvi un doppio episodio Non della serie principale Ma magari un video Della serie principale E un video Della inkstar In modo da riportarla Sul canale Anche perché ragazzi Voglio proseguire Quella mappa Perché è qualcosa di assurdo E soprattutto perché sono Il primo in Italia Mi pare a farla Quindi ragazzi Sostenete Questa serie Che vedo Che vi sta piacendo tantissimo Con un bel like Un bel commento Iscrivetevi al canale Se avete fatto Noi ci vediamo Nei prossimi giorni O domani Se siete bravi A lasciare like Con un nuovo video Qui da Zanzi è tutto Un bel saluto E Perla Madonna che fatica Come cazzo fanno i doppiatori